Buongiorno, buongiorno, che è l'ultimo lei? Si, ci vedi anche un altro? No, però sai, ma c'è i dentisti? Eh, c'è, 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 c'è. A me vanno le più ghebbiate. A questo gli è uno, a questo lì, gli è assistito e non li ha contrapatti. Ah, meno male, meno male. Ma poi gli è un'alantia, un'alantia, questo lì, questo lì, questo lì, per dire che a vecchio stampo, vecchio modo, lui per dire anestesia mai usato, lui non usa anestesia. No. No, zia, zia fa male, è dire gli contrariati, che ha contrariato proprio all'anestesia lui. Ma scusi, almeno un po', cioè nel senso, quando opera, quando mette... Niente, questo non c'è altro. Questo gli è un macellaro, questo gli è un cane. Questo gli è un cane, non è un dentista. Io c'ho una carie da trapanare a fare il coso... Ma lui trapano, lui c'ha la mano fatata, lui c'ha la mano di fatta, mano di fatta. Non si sente, non si sente. Lui la mano non tu la senti, ma il trapano te lo fa sentire fino, 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 fino all'osso. Fino all'osso. Lui senti, lui poi il trapano, ti spanca la bocca, ti strapana la terriata fino alla budella. Mi fa venire ancora più male, mi fa venire... E poi... E poi... Proprio... Mi innervo, mi innervo, ti pigia... Oh, senza l'anestesia. Mi pensa, una volta a me, per dire, gli scappò il trapano di bocca, mi sfondo a quell'altro dente. Sì. Ma, oh, prova a dire, non mi ha fatto fare nulla, mi ha rifatto, ha pagato lui. Se ti fa male, ti faccio gli sciacchi di qua, ora. Ti faccio gli sciacchi, io sì, ti faccio lo sciacchi, perché lo zucchero va a niente di andare con il buro. Ma quello fa male. No, ma lo zucchero li pulisce. No. Fa male, ma perché è come quando la ferita brucia, perché la sta risaleggendo. Ma almeno sarà pulito, almeno pulito, eh. Ma guardi, ora non è che si deve mangiare. Quello di usare a mangiare, usare a ristorante per essere pulito. Siamo un dentista, è normale, lo schizzo di sangue, il pezzo di gengiva. Ma come? O poi, o poi che c'entra? Lui, attronde, una malattia e c'ha, fa anche troppo. La malattia c'ha lui? Che malattia c'ha? C'ha la 3S. 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 Certo, perché si spende un po'. Ma scusa, ma c'avrà la 3S all'inizio, c'è stata una serapositiva. No, al finale, poi marcio. Proprio marcio. Proprio domani. Ma da onde? E infatti, anche i discorsi non usa guanti, per dire. No, no, c'è. I guanti? Lui, uno può sentire il tatto, deve sentire il tatto da gengiva. No, no, io. Il tatto. A me fa schifo, no, io non ci spiego. Ma scusi, ma allora lei, perché viene tutte le serie qui? Perché la mia ragazza la fa l'assistente che dà il dottore, l'aspetto, per andare a cena, neanche tardi, se non si muove la maniera. Sì, vengo qui, la dà il dentista, sono scemo io. Vieni a grullo, vieni via, vengo qui.